Richard? Sì? Ma che ti succede? Che ci fai lì, seduto al buio? Miglioro la vista notturna. Perchè, amico? Sai a che penso spesso? Non ne ho la più pallida idea. A Duffy. Duffy? Lo ammiro. Ma se lo conoscevi appena. Vero. Ma aveva un certo stile. Vieni qui. Subito. Vieni qui, maledizione! Come? Avanti! Stanno parlando di te. Insomma, che consiglio... che genere di consiglio vuoi? Immagino che si senta solo. No, non solo. Devo scoprire... Perchè? Qual è il suo problema? E lui mi piace. Cosa fa tutto il giorno? Non lo so. Ma ruba il nostro cibo. Senti? Senti cosa dicono? Dovrebbe dirci. Dovrebbe dirci. È un pagassita! Una larfa! Un povero scrocco! Cerca di tornare in te, Richard, amico. Non puoi fare così. Non puoi correre, inseguire il buio. Non parlare con nessuno. A che gioco stai giocando? Che ti è successo? Prima stavi bene. Qualche settimana fa stavi bene. E ora? Guardati. Perché parli di Duffy? Duffy erano svitato, chiaro? È partito per la tangente. Ha perso. Finito. Richard! Richard! Senti quello che ti sto dicendo. Non ti perdere come lui. Capisci quello che ti sto dicendo? Non te ne devi andare. Stai con noi. Torna indietro, Richard! Queste sono brave persone, va bene? Di solito non parlano degli altri. Stanno parlando di te perché ti sei bevuto il cervello. Non fare così, amico!